Ciao a tutti e benvenuti su Maciorix Tutorial. Oggi voglio vedere insieme a voi come fare per richiedere il telecomando del Teambox. Andiamo sull'applicazione MyTeam. Una volta autenticati, cliccate in basso su chat, ci aprirà il bot a Engie, che è l'assistente attuale di Team appunto. Scriviamo nel testo, il telecomando non funziona. Ci chiede la conferma del numero di telefono, diciamo di sì. Quale dispositivo utilizzi? Noi confermiamo il router. Quale è il modello del tuo decoder? Questo SAGICOM. Che problema risconti con il telecomando? Quindi qui possiamo scegliere se il telecomando è guasto, se la ricerca vocale non funziona, se il telecomando è smarrito, se il bluetooth non si collega. Ok, guasto. Non funziona più. Il telecomando si illumina premendo un tasto qualsiasi? No. Prova a cambiare le batterie? È già fatto. Il telecomando ora funziona? No. Le luci continuano ad essere spente? Sì. Quindi qui ci domanda, dai controlli effettuati sembrerebbe necessario sostituire il telecomando? Sarà necessario sostituire anche il decoder e l'alimentatore? Vuoi comunque procedere? Questa cosa la sto scoprendo ora insieme a voi. Quindi se dovessi richiedere il cambio di un telecomando guasto, in realtà verrà sostituito tutto, sia decoder che alimentatore. Quindi ci farà aprire una segnalazione, nome, cognome, telefono, e il momento in cui si desidera essere contattati. Questo è il modo più veloce per richiedere la sostituzione del telecomando, in questo caso di tutto l'apparato. Decoder e alimentatore. Spero che il video sia utile. Grazie a tutti per avermi seguito. Lasciate un like, condividetelo, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Macerix.